Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. La prima notizia di oggi riguarda le nostre ragazze rosso-nere che hanno vinto 1-0 contro la Sampdoria. Ad ora le vediamo posizionate in quarta posizione a 10 punti dietro all'Inter che ne ha 14. Anche la primavera femminile esulta perché si ha vinto per 4-1 contro l'Arezzo. Nonostante la sosta delle nazionali rivediamo Pulisic e rientrare in anticipo a Milanello però non si sorride del tutto perché si ferma Chukwese. Sembra infatti aver subito un infortunio muscolare nella partita Nigeria-Libia. Il nigeriano pare che dovrà saltare molte partite così a un primo sguardo. Vi aggiorneremo logicamente nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le partite della nazionale in vista di Francia-Belgio sappiamo che Mike partirà a titolare mentre invece Theo e Fofanà saranno in panchina. Arrivano news per quanto riguarda il rinnovo di Matteo Gabbia. Infatti il suo agente è stato contattato dal Milan per un rinnovo e sembra che se ne parlerà a breve. Queste sono tutte le notizie di oggi. Io, come al solito, vi invito a venireci a seguire su tutti i nostri social.